Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buona giornata a tutti, sempre caldo, anche se stanotte devo dire che ho dormito benissimo, c'era 18-19 gradi, so che mi invidiate, lo so, lo so, non me lo dovete dire. Mettiamo un like al video, iscrivetevi al canale e vi invito a seguirmi su Instagram, perché ho pubblicato anche un post oggi riguardo a un giocatore italiano che ha vinto tutto quest'anno, vediamo se indovinate chi è, quindi andate su Instagram e commentate il post perché ci tengo a sapere la vostra. Ieri c'è stata la Supercoppa Europea che non ho visto, perché ieri sono a mangiare il sushi, ieri sera quindi non ho visto la partita, devo addirittura ancora vedere gli highlights, adesso li vedrò, ho visto il rigore decisivo sbagliato dal Biol, ma al Biol gli mando un grande abbraccio perché è un grande difensore, il riscato di Kepa che dopo anni bui al Chelsea, non era stato pagato tantissimo, è stato decisivo e onora Tuchel veramente che remida ogni cosa che tocca, diventa oro in questo caso. Un trofeo. Ma veniamo ragazzi al mondo Lazio. Allora, tante novità, ovviamente nessuna ufficialità e ci mancherebbe, no? Però Lotito ha detto, ragazzi non preoccupatevi che con me state tranquilli che tessereremo tutti all'ultimo, perché sapete la situazione, ve la racconto ogni volta, lo dico per chi non lo sapesse. Comunque la Lazio ancora non ha tesserato ufficialmente nessun giocatore perché questo è bloccato dall'indice di liquidità. Quindi noi dobbiamo in questo momento fare delle operazioni in uscita. Si parla sempre di Correa all'Inter, però sembra una trattativa ancora da definire, assolutamente non è un affare in chiusura, anche perché si parla di cifre importanti. Quindi per quanto riguarda Correa, grossi movimenti, grosse novità non ci sono. Però Lotito ha detto, a tuo nato, state tranquilli. Quando parla Claudio io sono tranquillo, ma non posso essere altrettanto calmo per quanto riguarda il mercato. Ragazzi, il tempo stringe. Io sto facendo ormai il countdown e io ho lì la data. Siamo al 12 d'agosto. Se io inverti i numeri, 21 agosto la Lazio esordirà ad Empoli. Cioè ragazzi, manca pochissimo. Manca neanche 10 giorni e la Lazio esordirà in Serie A e siamo indietro. Adesso possiamo dirlo ufficialmente. Cioè la Lazio si è mossa bene all'inizio. Ho detto, ci stiamo muovendo con intelligenza, con le nostre armi. Abbiamo pochi soldi in generale, ma pochi soldi ce l'ha tutta la Serie A. È una Serie A che si è indebolita. Parliamoci chiaro, i grossi talenti. Lukaku è andato via e magari, non lo so, se ne andranno anche altri. Adesso c'è anche Insigne a Napoli che non si sa se rinnova. Boh, lui aveva espresso l'idea che voleva rimanere a Napoli. Ci mancherebbe, perché poi è napoletano e tutto. La Lazio mi pare che non ci pensi, ma non lo possa minimamente prendere. Anche se io ve ne parlai di Insigne, perché era un'occasione. Cioè quest'anno era l'occasione per provare a prendere Insigne. Perché c'ha i Sarri che lo vuole e Insigne vorrebbe ritrovare Sarri. Ovvio che Insigne vuole stare a Napoli. Però in scadenza gli propone un bel contratto, lo paghi anche meno, perché è in scadenza tra un anno. Però vabbè, noi non ci pensiamo. Vediamo. Per me alla fine rimarri a Napoli. Comunque, al momento, ripeto, io non ci vedo tra le prime quattro, la Lazio assolutamente, ma le notizie di oggi sono queste. Allora, la bomba è che è stato proposto, riproposto, a Mers Rodriguez. Lo conosciamo tutti, giocatore colombiano che fece un mondiale nel 2014 stratosferico. Ormai ha la sola dei 31 anni, classe 91, fu pagato da Real 100 milioni. Ma uno dei classici giocatori che ha fatto un mese buono nella sua carriera, un mese stratosferico al mondiale, ma poi non si è mai confermato, perché io, chi mi segue in live lo sa, che io vi racconto spesso che l'europeo e il mondiale bisogna prenderli con le pinze, perché sono competizioni di un mese, brevi. Quindi anche un giocatore mediocre, un giocatore normale, se sta bene psicofisicamente in quel mese lì, rende al massimo, sembra un fenomeno. Poi certo, il mondiale e l'europeo lo guardano tutti, ma ciò non è così, perché poi si dimostra nell'arco di un anno, di due anni, il vero valore di un giocatore. Però, a parte quello, Ames Rodríguez è sicuramente un giocatore forte, magari venisse alla Lazio, e in uscita dall'Everton, perché a Liverpool, dopo l'uscita di Carlo Ancelotti, che l'aveva voluto, dovrebbe andarsene, percepisce un ingaggio altissimo. Quindi parliamo di fanta mercato, però in scadenza tra un anno, quindi siamo sempre lì. Giocatore di 30 anni, in scadenza, il cartellino non lo vai a pagare tanto, però, ripeto, è inutile che vi sto a raccontare che la Lazio è su Ames Rodríguez. Certo, il suo procuratore Mendes, che tra l'altro, già ha fatto affari con la Lazio in passato, lo propone, lo propone a squadre come il Milan, che ha bisogno di un trequartista, come noi, che avremo bisogno di un centrocampista di qualità, ok? Poi forse nel 4-3-3, Ames Rodríguez non sarebbe tatticamente proprio l'ideale, ma sti cazzi, voglio dire, Ames Rodríguez ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto. Se ne parlava già l'anno scorso di questo giocatore qua, ma non vi devo raccontare favole, ragazzi, parliamo proprio di fanta mercato e non sto esagerando. Poi, un'altra situazione riguardo al centrocampo più concreta è Basic. È Basic che se ne parla da un mese, 7 milioni più 3 di bonus, è un affare in chiusura, io spero che l'Atalanta non si inserisca perché c'è questa concorrenza, che però è una cifra che mi lascia perplesso, perché un giocatore del 96, bravino, poi può crescere sicuramente, può occupare tutti i ruoli del centrocampo, quindi mediano, mezzala e un piede mancino, grande fisicità, 1,90, ma è scadenza tra un anno, quindi vai a pagare un giocatore 10 milioni in scadenza tra un anno, via. È un'operazione che mi lascia un po' perplesso, cioè poi io questo Basic lo voglio vedere perché ho qualche riserva su questo giocatore, però speriamo almeno arrivi, ce l'abbiamo inseguito due mesi, sarebbe il colmo che ce lo facciamo soffiare, quindi proprio per credibilità la nostra società deve chiudere per il giocatore croato, che non è neanche nel giro della nazionale, quindi, ma, non lo so, vedremo questo giocatore. Poi, altre operazioni, sempre riguardo il reparto nevralgico della Lazio, Torreira. Allora, è in uscita dall'Arsenal, non è più nei piani dell'Arsenal, è un giocatore che negli ultimi anni non ha reso, quindi lo potrebbero dare in prestito. Si parla di un Torreira in e un Escalante out, perché Escalante non ha convinto, fu preso a zero da Leibar, potrebbe essere venduto a 5-6 milioni, vediamo, al Marsiglia, dicono che c'è un interesse, ma poi io voglio vedere quanto è reale questo interesse. Molti, ieri su Instagram avevo fatto una storia e mi hanno detto, vabbè, ma Ghiotto, ma Escalante l'abbiamo presa a zero, l'abbiamo fatto, forse, forse, faremo una plusvalenza, è stata una buona operazione, ma io ho detto, ragazzi, ma, scusate, ma noi prendiamo i giocatori a zero a caso, cioè solo per fare plusvalenza, beh, se ragioniamo così, resteremo sempre sessi, settimi. Cioè, noi dobbiamo prendere i giocatori a zero, se sono occasioni, come magari è stato Isai, ma perché sono funzionali, non per fare la plusvalenza di 4 milioni, che poi voglio vedere, Escalante, a quanto lo vendiamo e se lo venderemo. Cioè, ragazzi, questi discorsi veramente sono da squadre mediocre, quindi se ragioniamo così, resteremo sempre al sesto, settimo posto, però i tifosi che mi fanno questi ragionamenti non devono pretendere nulla, perché loro stessi non sono ambiziosi, è chiaro, quindi Escalante è stato un acquisto fallimentare. Poi, se ci ricaveremo qualche milione, bene, ma parlare di operazione bella, perché abbiamo fatto forse la plusvalenza di qualche milioncino, mi viene veramente da ridere. Poi questi 7-8 milioni per prendere chi? Per prendere Basic? Vabbè, vediamo, vedremo poi se farà bene. Poi Torreira, ripeto, a me piace, e secondo me c'è proprio la necessità di prendere un vice Leiva, ma un vice Leiva concreto, cioè uno che si possa alternare, perché Leiva, ancora quando è in forma, per me può fare il titolare, anche Sarri è rimasto impressionato, anche il vice Leiva è un giocatore di un'intelligenza sopra la media, veramente, quindi dove non arriva più con il fisico, arriva con il posizionamento, con l'intelligenza, con la lettura in anticipo delle giocate e il senso della posizione che ha, dovuta anche alla sua grande esperienza. Però non regge tre partite a ottimi livelli in una settimana, quindi c'è la necessità di prendere Lucas Torreira. Vediamo, io ho un acquisto che approvo in maniera totale, giocatore anche lui da rilanciare, perché, ripeto, in una fase calante della sua carriera, ma è ancora giovane, sono convinto che in Serie A può ritrovarsi, ve lo ricordate, diciamo, a Marassi ha fatto grandi cose, ricordo un gol col Chievo, mi pare straordinario, e anche all'Arsenal, comunque, il primo anno non fece assolutamente male. E poi, attenzione, allora, Kostic, è un nome che vi piace, lo so, vi gasa, però c'è questo problema dell'est comunitario, perché al momento non abbiamo slot liberi, Kamenovic e Anderson, arrivati quest'anno, sono extra comunitari, e quindi, se Kamenovic, perché Anderson rimarrà, non verrà silurato, verrà magari dato a qualche squadra, diciamo, imparcheggiato da qualche parte, Kostic non potrà arrivare. Ok, il DS del Francofort ha detto nessuna offerta per Kostic, ma magari sono dichiarazioni così di facciata, però la realtà è quella, la Lazio, oltre all'indice di liquidità che blocca il mercato, non può prendere Kostic al momento, se non libera uno slot da extra comunitario. Quindi, si riparla di Andres Pereira. È chiaro che è un giocatore che, l'abbiamo già visto la Lazio, non ha inciso per vari motivi, modulo non adatto a lui, Inzaghi che aveva poco coraggio nel provarlo, sappiamo che è un limite di Inzaghi che era troppo legato agli stessi undici, quindi una mente chiusa, ottusa, che a me non andava più bene, perché la Lazio deve allargare le vedute, speriamo che con Sarri lo possa fare. Giocatore duttile, perché secondo me può fare sia la mezzala di qualità, come piace a Sarri, essere un vice Luis Alberto, sia fare magari l'esterno sinistro, col destro poi a rientrare. Si può adattare a fare quel ruolo lì, secondo me. Quindi approverei l'acquisto, però bisogna vedere, perché cosa facciamo? Lo riprendiamo in prestito? Non lo so. Acquistiamo a titolo definitivo? Ho qualche dubbio, perché poi lo United ti chiederà almeno 10-15 milioni, quindi non lo so. Magari si potrebbe, agli ultimi giorni di mercato, prenderlo magari in prestito. Però, al di là di Pereira, che mi può anche piacere, ma non abbiamo una programmazione, ragazzi. A me sembra che se c'è l'occasione prendiamo il giocatore, perché magari non siamo riusciti a prendere costi. Non va bene così. Non va bene. Ripeto, Sarri ok, ma il nostro progetto non può essere solo Sarri. Ci deve essere una programmazione dietro. E vedo che se c'è questa programmazione non è secondo me all'altezza. E poi chiudo con Shakiri, che era un obiettivo, anche se poi grosse offerte non ci sono mai state. Sapete che a me non piace in quel contesto lì della Lazio, nel 4-3-3. Anche a Sarri non aggrada molto il giocatore svizzero. Dovrebbe andare a Lione. Quindi auguro il meglio a Zerdan Shakiri, un giocatore comunque che mi piace. Però non dovrebbe essere lui l'esterno della Lazio. Chi sarà? Boh, non lo so. Quindi, signori, tante chiacchere, alla fine ufficialità niente. Però, ripeto, lo titolo ha detto state tranquilli e un proverbio dice che tranquillo è morto. Quindi, tranquilli, ma io guardo il calendario, il tempo scorre e la serie A incombe. Signori, like al video, iscrivetevi al canale. Bella. . Grazie a tutti.